E' possibile tramite un'analisi del passo in 30 secondi di avere tutti i cicli del passo per anca, ginocchio, tronco, forze applicate al terreno, tempi di contatto, lunghezza del passo, carico. Walker View sembra un banale tapirulan, in realtà è un sistema cardioposturale di analisi del cammino e della corsa. Un'apparecchiatura altamente tecnologica, la prima in provincia di Venezia, dotata di un nastro sensorizzato e di una telecamera 3D in grado di digitalizzare l'immagine del paziente, per costruire ogni suo singolo movimento senza la necessità di applicare alcun dispositivo sul corpo. Questo sistema all'avanguardia è ora a disposizione dell'ASLA 3 Serenissima presso il reparto di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale All'Angelo. Possiamo dare un servizio nuovo, importante e direi soprattutto all'avanguardia a tutte quelle persone che hanno bisogno di riabilitazione oppure di valutazioni fisiatriche al fine di impostare interventi di supporto, di sostegno ai loro problemi. Un'ampia gamma di pazienti potranno usufruire di questo prezioso dispositivo che in pochi secondi riesce a elaborare dati fondamentali pre e post intervento chirurgico e per capire che trattamento eseguire. Poi dopo con lo stesso tipo di dispositivo possiamo diciamo con l'intervento del fisioterapista preparato e ne abbiamo tanti per fortuna riusciamo diciamo a correggere e a dare un feedback diretto per il paziente per cercare di correggere gli eventuali errori che fa durante il cammino. Il nuovo dispositivo del costo di 80.000 euro è una donazione di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto interconcessionario che gestisce alcuni servizi dell'ospedale All'Angelo. La dimostrazione è che un rapporto fra pubblico e privato, il rapporto sano, è che può creare degli ambiti di maggior qualità soprattutto per l'utenza.